A Roseto Valfortore già campagna elettorale in vista del rinnovo del Consiglio Comunale, delineate già le due liste con il ritorno in campo di Lucilla Parisi, che dopo aver guidato per diversi anni il piccolo borgo dei Monti Dauni, tenterà nuovamente la scalata. Con quali obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di 10 anni fa, di 15 anni fa, riprendere in mano il paese, recuperare tutto ciò che c'è da recuperare, perché io ci ho sempre creduto in questo territorio e continuerò a crederci. Praticamente tutte le potenzialità che questi territori possono dare. Ambiente, agricoltura sicuramente, perché è un'agricoltura diversa da quella che attualmente si fa, è ovvio che bisogna coinvolgere i privati, perché con l'agricoltura devi inculcare e influenzare con iniziative diverse, però deve essere il privato che deve crederci e magari diversificare. Noi abbiamo un paesino che è prestato al turismo sotto tutti i punti di vista e quindi sarà fatto tutto ciò che è stato fatto precedentemente. Queste invece le priorità di Lucilla Parisi. Le priorità è riportare almeno come immagine il paese in uno stato dignitoso, perché come è arrivato adesso è veramente vergognoso. Mi dispiace dirlo, ma è così. E quindi un po' di pulizia intorno al paese, un po' di fiori, di abbellirlo e renderlo ordinato, ordinato e pulito.